Continuiamo il discorso con la signora, salve. Come si chiama? Me lo sono dimenticato. Io Maria. Maria, con la signora Maria. Allora, signora Maria, ci vuole dire qualcosa? Cosa ci vuole dire signora Maria? Io, mi è arrivato in Italia, mi scusi che ti dico, perché ho un figlio alla Università. E allora, cerchiamo di capire quello che ha detto. Giusto. Dunque, lei ha detto, sono arrivato in Italia. Arrivato in Italia perché avete un figlio alla Università. Lei è arrivato in Italia perché praticamente ha un figlio che studia all'Università. Giusto. Trebbe se lo vedo che ha un sole. Sole, sole, sole. Allora, signora Maria, ci vuole far vedere praticamente come è passato il tempo qui al bar Tucano la domenica? Sento handicapati tutti, mi scusi. Sì. Ci romeni, ci italiani. Mi scusi che parlo questa, tutti sono handicapati. Esatto. Non ho una capacità di memoria, mi scusi che ti parlo. No, no, prego, prego. Io sono vecchia, io dico dritto. Quando anni c'hai? 50 anni. Ah, 50 anni vecchia, mi scusi. Perché? Forse in Romania è vecchia, qua no. Qua, in Romania ho mangiato 50 anni. Ma mangiamo un 50 in Romania perché è arrivato per un figlio. Certo. Marito mio è morto, ho cinque figli, mi scusi che ti dico. Ma lei dice sempre mi scusi, non c'è bisogno che si scusa con me. La Romania sta dentro un palazzo bene, mi scusi che ti dico. È esatto a Berlusconi, mi scusi che ti dico. No, non è problema, niente problema per me. Amo arrivato, mi sacrifico vita, per questo ragazzo se lo vedo in alto, come si dice. Va bene, allora continuiamo con qualche cuore solitario, va bene? Tutti sono handicappati di qua. Tutti sono handicappati di qua. Mi scusi che ti dico. Lei com'è? Lei, una curva. Singolo? In romana si dice butona, in italiana. Qua si dice curva. Buona.